Al Bovero finalmente dopo oltre tre anni di chiusura della postazione per il rilascio delle carte d'identità siamo riuscite ad aprire ben due postazioni. È stato possibile con uno sforzo enorme messo in campo dalla direzione della municipalità, dalla dottoressa Pina Sarnacchiaro, e uno sforzo enorme messo in campo nel contempo dal personale grazie ad una riorganizzazione, una ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse disponibili. Ottenere la carta d'identità digitale al Bovero è diventato molto più rapido con l'aumento da due a quattro delle postazioni per il rilascio operative sul territorio. Niente più attese e prenotazioni lunghe mesi. I residenti della quinta municipalità possono recarsi direttamente presso la sede di via Morgan, che recupera anche l'ingresso dalla scalinata a lungo interdetto, e richiedere la carta d'identità se in possesso della documentazione necessaria. Per farlo, lo ricordiamo, serve una fototessera accompagnata dal codice fiscale e da un documento di riconoscimento valido. Su questo territorio c'era una necessità impellente di aprire queste postazioni, perché noi abbiamo un alto numero di residenti anziani, e quindi la problematica di doversi recare nell'unica struttura che erogava le carte d'identità, che era quella di Giacinto Gigante, era un problema molto sentito. Quindi con questa apertura siamo andati incontro soprattutto alle esigenze delle fasce più deboli. La municipalità 5, che abbraccia i quartieri Vomero e Arenella, serve un'utenza molto vasta che conta 119 mila residenti. L'attività, limitata a soli due sportelli nella sede di Viaggia Cinto Gigante, aveva di fatto paralizzato le procedure per le carte d'identità, con disagi enormi per i cittadini costretti a spostarsi nelle municipalità limitrofe. Abbiamo fatto ovviamente un lavoro straordinario perché sappiamo che le risorse umane a disposizione del Comune non sono tante. La riattivazione delle due postazioni in via Morgan, che si aggiungono a quelle dell'Arenella, dove resta confermato il sistema di prenotazione, ha consentito di raddoppiare il numero di pratiche smaltite, circa un centinaio al giorno, ed offrire un servizio in tempi veloci. Gli uffici sono aperti tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14, e i pomeriggi, dalle 15.45 alle 18, il lunedì e giovedì in via Morgan, il mercoledì e venerdì a Viaggia Cinto Gigante.